Buongiorno, la paura fa novanta, l'amore cento. Sì, l'amore, ma quello vero. Vorrei ancora parlarvi del profilo femminile dell'amore. Dio è madre, affermò sorprendentemente Papa Giovanni Paolo I volendo esplicitare il volto materno di Dio Padre. Una evidente conferma nella Bibbia la troviamo nel libro del profeta Osea. Dando voce a Dio così scrive Quando Israele era fanciullo io l'ho amato. Io lo trascinavo con legami di amore. Ero per lui come chi solleva un bimbo sulla guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Come non rintracciare in questo ritratto di Dio la fisionomia di una madre, fin anche nel gesto dell'allattare il proprio figlio per dargli da mangiare. Sì, l'amore di Dio è un amore che nutre, che sfama tutti coloro che come i bambini non possono da soli procurarsi il cibo. Un amore che sfama anche quanti per mancanza di cibo materiale e spirituale sopravvivono ogni giorno. Il volto femminile dell'amore di Dio ci faccia tornare ad apprezzare la meravigliosa capacità che è delle donne di generare e rigenerare la vita, anche con gesti semplici e carichi di amore, come il bacio di una madre, la carezza di una madre. Sono per un figlio la più potente preghiera di benedizione che egli possa ricevere. Niente più dell'amore di una madre allunga la vita del cuore. Nel tempo del coronavirus, in cui tutti abbiamo bisogno di ritrovare un amore forte, non smettiamo di desiderare quello puro e rigenerante di Dio, come quello di una madre. Amore vero 100%.